ben trovati un nuovo appuntamento con unica salute oggi parleremo di tumori tumori al polmone ma state tranquilli perché lo faremo con dei dati importanti relativi alle nuove cure e soprattutto alla sopravvivenza quindi insomma vuole essere un messaggio assolutamente di speranza lo facciamo insieme alla dottoressa Isabella Wittemberg responsabile degli hospital dell'oncologia della SST di Lecco quindi dei presidi di Lecco e di Merate benvenuta nei nostri studi grazie grazie per l'invito grazie per aver accettato il nostro invito l'ho detto subito all'inizio perché quando si parla di patologie oncologiche c'è sempre timore c'è sempre paura ed è comprensibile ma noi oggi vogliamo raccontare che cosa si fa a Lecco cosa si fa sul nostro territorio e soprattutto quali sono le speranze per il futuro intanto però le chiedo subito di iniziare con i numeri con i dati allora i dati sono la parte diciamo che mette un pochino più ansia più paura perché il tumore del polmone è da sempre stato definito uno dei big killer cioè quei tumori che hanno il più alto tasso di incidenza e di mortalità per fortuna le cose stanno cambiando non solo in termini di miglioramento delle cure ma anche in termini di incidenza facciamo conto che nel 2023 in Italia ci sono state 44 mila nuove diagnosi di tumore del polmone ma questo trend è un trend in riduzione comunque facendo riferimento un po alla nostra realtà noi abbiamo in media tre nuove diagnosi nel nostro ospedale tre nuove diagnosi a settimana quindi nell'ultimo anno abbiamo avuto quasi 150 nuovi casi poi non tutti questi casi vengono trattati alcuni risolvono con l'intervento chirurgico alcuni non vengono proprio trattati non iniziano mai un trattamento la maggior parte invece subiscono anche dei trattamenti poi successivi di chemioterapia e radioterapia attualmente nel nostro ospedale tra il presidio di Lecco e quello di Merate il nostro dei hospital tratta quasi 120 pazienti e sono numeri abbastanza elevati sono numeri elevati negli ultimi anni sono cresciuti pazienti in trattamento ma sembra un cattivo dato in realtà è un dato positivo quello perché vuol dire che riusciamo a trattare più pazienti e per tempi più lunghi questo proprio grazie al progressi che sono stati fatti dal punto di vista delle terapie dal punto di vista terapeutico lei però prima diceva che in realtà il numero dei tumori al polmone è in diminuzione è in diminuzione nei maschi mentre purtroppo nelle donne sta aumentando dal 2008 si è osservato una riduzione del dell'incidenza delle diagnosi legata a un fattore molto importante che è il fumo di sigaretta negli uomini dal 2008 anche grazie a delle leggi nazionali che sappiamo sulla restrizione del fumo nei locali pubblici si è assistita a una riduzione che corrisponde alla riduzione dell'abitudine al fumo quindi meno fumo meno diagnosi le donne invece fumano di più le donne stanno hanno iniziato a fumare di più e quindi questo la diagnosi di tumore del polmone segue di pari passo questo andamento legato anche all'abitudine al fumo per cui importante agire come diciamo sempre la prevenzione primaria agire sugli stili di vita e per quanto riguarda il tumore del polmone l'abitudine al fumo è quello più importante su cui si può agire perché comunque è una causa eliminabile e quindi è importante fare dei programmi di disabitudine al fumo e cercare appunto di istruire anche i giovani soprattutto perché è uno dei dati preoccupanti che l'abitudine al fumo sta crescendo nelle fasce più giovani quindi importante lavorare anche sui ragazzi per disincentivare questa abitudine ma c'è uno screening che dà un po' l'idea dell'andamento anche questa è una nuova possibilità che abbiamo il tumore del polmone purtroppo non è mai stato come il tumore della mammella per cui c'è l'esame lo screening lo si fa su tutta la popolazione femminile non c'era un esame che riuscisse ad individuare precocemente in una percentuale ovviamente adeguata di persone che avesse un senso significato esatto adesso invece si è visto che nei pazienti a rischio perché fumatori facendo periodicamente una TAC ad alta definizione e a basso dosaggio di emissioni di radiazioni quindi che non faccia male alla persona anche ripetendola negli anni si riescono ad individuare precocemente delle forme tumorali di tumore del polmone in modo da consentire l'intervento chirurgico e quindi asportare radicalmente precocemente il tumore in modo da appunto avere maggiori possibilità poi di guarigione con la diagnosi precoce. Ma è una scelta che deve fare il singolo fumatore oppure c'è proprio lo screening c'è un percorso? Siamo in una fase iniziale ci sono dei percorsi di screening anche la regione Lombardia si sta attivando per aderire a questi percorsi arruolando diciamo dei centri che possano entrare in questo progetto sono dei dati molto recenti e quindi stiamo anche noi cercando un attimino di rientrare in quei centri che potrebbero usufruire del poter far usufruire le persone dello screening l'IOM che è la nostra società italiana di oncologia raccomanda l'adesione dei fumatori allo screening certo. Questo è sicuramente una novità importante quindi sicuramente la diagnosi precoce un'arma importante e poi parlavamo di nuove cure lei mi accennava all'immunoterapia ai farmaci biologici? Allora le nuove cure sono la cosa su cui sicuramente abbiamo avuto i maggiori cambiamenti come dicevo prima perché è big killer il tumore del polmone perché prima una diagnosi di tumore del polmone avanzato corrispondeva a un'aspettativa di vita tra i sei mesi e l'anno adesso l'unica cosa che avevamo a disposizione era la chemioterapia adesso la chemioterapia continua ad essere un'opzione terapeutica importante perché continua a dare dei risultati ci sono anche dei chemioterapici nuovi ma quello che ha cambiato lo scenario sono l'immunoterapia quindi dei farmaci che stimolano il nostro sistema immunitario a riconoscere il tumore e a contrastarlo e poi le terapie a bersaglio molecolare le terapie target cioè delle terapie che agiscono su specifiche mutazioni della cellula tumorale e aggrediscono solo la cellula tumorale non danneggiando le altre cellule per cui che cosa in che cosa si traduce questo? Dei risultati molto migliori sul controllo del tumore finalmente riusciamo a parlare anche nel tumore del polmone di sopravvivenze che arrivano a cinque anni e che in alcuni casi superano i cinque anni ma soprattutto un risparmio di tossicità sono pazienti che vivono a lungo vivono bene hanno una qualità della vita normale ottima che gli consente di fare regolarmente la loro vita il loro lavoro occuparsi della loro quotidianità questo è fondamentale ma sono però si parlava di farmaci di target quindi ogni singolo intervento viene tarato sulla tipologia di tumore sul paziente e questo richiede un grosso lavoro di equip che è quello che poi voi fate in ospedale? Assolutamente non esiste più la terapia adatta a tutti a tutti allo stesso modo una stessa terapia per tutti non esiste più è fondamentale che un paziente sia sempre gestito da un team multidisciplinare come accade? Noi abbiamo il team multidisciplinare ormai da qualche anno che ha la figura principale dell'oncologo del chirurgo e del radioterapista ma che conta su tante altre figure dai radiologi i pneumologi i patologi che sono fondamentali nell'individuare poi quei target di cui parlavamo prima quindi è un gruppo che collabora che lavora in team per dare il tartamento personalizzato più adeguato al singolo paziente quindi integriamo le nostre possibilità le nostre capacità e individuiamo il percorso anche diagnostico oltre che terapeutico migliore per il paziente ci sono novità anche per quanto riguarda la diagnosi? Rispetto alle diagnosi abbiamo sicuramente anche lì nuove tecniche per fare diagnosi ovviamente purtroppo il tumore del polmone non dà grossi segni all'inizio tant'è che poche volte sono un 20-25% quelli che diagnostichiamo che sono già operabili però prima avevamo delle difficoltà anche proprio nell'individuarlo o magari nel riuscire ad arrivare a una biopsia adesso anche da quel punto di vista lì molte nuove strumentazioni molte tecniche chirurgiche nuove tecniche diagnostiche mini invasive quindi tutta una serie di strumentazioni anche che rendono la diagnosi più semplice e soprattutto più efficace. Dottoressa le faccio una domanda siamo quasi in chiusura il fumo un elemento fondamentale per lo sviluppo del tumore io smetto di fumare oggi entro quanto tempo i miei polmoni torneranno a essere completamente sani insomma annullerò il rischio di sviluppare un tumore al polmone si può dire? Il beneficio nello smetter di fumare per alcuni aspetti c'è da subito cioè nell'arco di 4-8 settimane il polmone ricomincia ad avere quei movimenti che hanno le cellule polmonari per farlo ripulire da quello che respiriamo quindi non solo dal fumo ma anche da quello che c'è nell'ambiente. Il rischio legato al fumo impiega poi sui 10-15 anni il rischio oncologico legato al fumo impiega tra i 10-15 anni a risolversi quindi dobbiamo smettere e dopo 10-15 anni il nostro rischio è uguale a quello di un non fumatore. Le aspettative di vita sono aumentate lo diceva prima? Sono aumentate rispetto una piccola ulteriore cosa. Quando parliamo di terapia bersaglio molecolare che sono quelle che le dicevo danno la maggiore possibilità di sopravvivenza anche a 5 anni oltre queste mutazioni contro cui agiscono questi farmaci sono di solito frequenti nei non fumatori quindi altro motivo per cui smettere. Non solo riduciamo il rischio di ammalarci di tumore del polmone ma se fumiamo ci togliamo anche delle possibilità terapeutiche. Quindi i vantaggi, i farmaci ci sono abbiamo dei vantaggi con i nuovi farmaci, sta sicuramente migliorando la sopravvivenza in qualche caso possiamo parlare anche di, sono rari, ma possiamo parlare anche con i farmaci di guarire Ecco, i guarigioni quando si parla di tumore al polmone è assolutamente una grandissima novità, è importantissima. È una cosa che non facciamo mai, assolutamente. Però ecco perlomeno, ripeto, le sopravvivenze per anni che era una cosa che nel tumore del polmone assolutamente mancavano, adesso invece cominciano ad essere degli obiettivi sicuramente raggiungibili o comunque perlomeno perseguibili. Dottoressa, io la ringrazio per la sua presenza qui oggi, lo abbiamo detto, avremmo dato un messaggio di speranza, un messaggio positivo e così sicuramente è stato. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.